ok bella raga anche con la luce artificiale occhiali del sole lo stile non è uguale allora è arrivato questo super pacco facciamo così adesso tira su giove basta il tipo lì che dice religione abbiamo ancora tre cani e due gatti attenzione quindi metti l'anima in pace che cazzo vuoi non vaffanculo vai a lavorare su una scena geografica non mi scassare più la minchia il pacco arriva dal molise ce lo manda allora gennaro salzano io spero che stia riprendendo anche me secondo me è così o raga ieri oggi è mercoledì martedì 24 maggio è arrivata la pompa dell'olio l'ufficina e oggi ha iniziato a lavorarci quindi questo è un piccolo aggiornamento allora gennaro salzano per camper già ciao già ma sono gennaro ci siamo sentiti su instagram questi sono alcuni prodotti tipici molisani è scritto in corsivo grande brovo riscriviste a un patello rame dovendoli spedire ho dovuto prendere prodotti confezionati tranne per l'olio caciocavallo passata di pomodoro e salsiccia le bottiglie con l'etichetta sono fatte da me da noi in casa il molise piccolo ma ha tante cose da scoprire e quando vorrà io sono qua l'invito non va bene è sempre l'invito vabbè l'invito per vabbè non ho capito è sempre valido come ti vissi siamo un po lontani altrimenti il non il nonno te lo riparava gratis qui da noi comunque con gavino sei in buone mani si grande inutile dire che è un piacere seguirti a casa ti seguiamo su youtube sulla tv in sala da pranzo ormai su un amico che incontriamo due tre volte a settimana guardando i tuoi video non voglio essere troppo lungo un abbraccio forte a te e luna saluti a gavino ciao super bro gennaro grande grandi raga a poi vedo a leggere anche questa cosa che mi ha scritto io giustamente lo ringrazio facendo grande e lui c'è già ma l'ho fatto con piacere per ringraziarti non so come dire seguendo i tuoi video seguendo le tue avventure mi hai aiutato in un lungo periodo in mi andava tutto storto non storto peggio 6 positività e sei davvero una bella persona speriamo torni presto il nonno rock io tra un po di tempo vado a trovare un nonno in vendita speriamo grazie bro king allora andiamo a vedere biscotti per luna c'è scritto perpina luna grande grande cazzo grande pasta molisana spaghetti credo spaghetto quadrato bucato così sempre molisana salsiccia salame doppia ha messo che queste quali hanno fatti qua questi quali hanno fatti loro perché non c'hanno etichetta caciocavallo stagionato sapori di forno taralli bolliti e finocchietto ma sono delle bestie che un king a vedi mi ha detto occhio che si hanno fatto il danno detto no bro non l'hanno fatto il danno vabbè sta quasi aperto a prova e sono pennoni rigati è che tu mi hai detto controlla il pacco vabbè dai questa qua tanto non fa niente poi macinato di tartufo nero produzione artigianale che storia crema con caciocavallo e tartufo grande il tonno king bro fatto in casa salsa di pomodoro fatta in casa a questa qua invece fatto in casa con pomodori interi olio di oliva fatto in casa vai oh gennavo io ti ringrazio tantissimo se trova un altro messaggio mi manda dei messaggi perché c'è ma nel senso vedi lui dice che io giustamente ti faccio bro grazie grazie davvero lui mi dice già ma ti ringrazio io a te seguendoti su youtube guardando i tuoi video mi hai aiutato in un periodo davvero avverso e sono contento bro l'unica cosa che si è rotta si è rotta si è bucato il sacchetto queste qua ce le mangiamo con gavino dai adesso rimetto tutto dentro questo è l'olio paura davvero bro poi ben arrivato anche un altro di pacco dalla sardegna che però c'era il file corrotto questo qui dalla sardegna che mi ha mandato il mio caro amico di cagliari che ho già aperto biscotti di forni come dice il bro malo reddus 4 sapori snack grittini classico vinti che sale di sardegna e mancabile poi c'è anche altra storia che io l'ho aperto ho fatto il video ma ho perso tutto quindi facciamo due unboxing insieme pane carasau tradizionale pane carasau gutiao formaggio pecorino montanaro questo abbiamo già aperto oppure questo pecorino formaggio di capra poi c'è il vino rosso vino bianco crema di pecorino salsiccia sarda classica salamino rustichello grande bro lo so che ho fatto due video in uno perché quello che avevo fatto con gavino c'era il file che era corrotto e quindi il pacco l'avevo già aperto quindi king gennaro dal molise grande e giorgio da da cagliari vodo al poeta ci siamo beccati al poeta o st'estate quindi niente ragazzi io vi ringrazio tutti e due e niente adesso rimetto il posto sto casino perché se ne arriva gavino nemmeno apporto o bella storia alla prossima ciao 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 ciao